siamo occhi al testo a pagina 113 l'ultima frase che abbiamo detto il primo passo del capitolo 7 dice così Hashem disse a Moshe guarda ti ho reso padrone di faraone e tuo fratello Aharon ti farà da portavoce praticamente tu direi le cose e Mosè le tradurrà e le spiegherà andiamo avanti il nuovo passo passo numero 2 dice tu Mosè dirai tutto ciò che ti comanderò e tuo fratello Aharon parlerà al faraone affinché lasci andare i figli di Israele dal suo paese non è la prima volta che Dio dice attate da Ber tu dovrai parlare vi ricordate che Mosè all'inizio non voleva accettare la missione perché non si sentiva idoneo era troppo umile diceva manda Aronne manda direttamente il Messia e questo e quest'altro invece Dio dice no attate da Ber tu dovrai parlare anche se al lato pratico in effetti chi era il messaggio da chi lo riceveva il faraone non da Mosè ma da Aronne al lato pratico perché Aronne traduceva e spiegava nonostante ciò Dio dice no tu Mosè devi parlare allora se vi ricordate abbiamo spiegato una volta che perché proprio Mosè se Aronne comunque traduceva vi ricordate abbiamo detto che essendo che il faraone peccava di grande superbia dal dire io sono il Dio e chi è il vostro Dio che voi professate parlate il nome suo eccetera allora aveva bisogno di una buona dose di umiltà e chi più di Mosè il quale la Torah dice che è la persona più umile sulla faccia della terra chi più di lui poteva appunto far fronte alla gava alla superbia del faraone perciò Dio manda Aronne che traduce ma Mosè anche Mosè era umile ma non c'era scritto che lui era il più umile della faccia della terra come Mosè perciò l'umiltà di Mosè doveva rompere la superbia del faraone ma qua bello che dice c'è anche un altro insegnamento molto interessante che quando una persona si sente che non è all'altezza di fare una certa cosa Dio dice no 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 attate davvero io so benissimo che Aronne non è balbuziente che Aronne parla parlerà in egiziano eccetera eccetera lo so benissimo ma io voglio che lo fai tu perciò molte volte noi ci sentiamo come Mosè anche con tutte le ragioni del mondo ci sentiamo magari non idonei e così via ma Dio dice no io voglio che tu faccia quella cosa io voglio che tu fai il passo avanti che tu cominci che tu lavori su te stesso perciò non era tanto che la missione venga fatta se non da Mosè e da Aronne se non da Aronne e da qualcuno no tu Mosè devi farlo io ho scelto te e così ognuno di noi si deve vedere come la la persona che Dio ha scelto per una determinata missione nel mondo qual è la primaria missione che Hashem ci ha attribuito a tutti noi è quello di portare la parola di Hashem nel mondo quello di portare la conoscenza di Dio nel mondo tra ebrei e tra non ebrei di insegnare al mondo intero l'unicità di Dio insegnare a tutti ai non ebrei i sette percetti di Noè agli ebrei i dieci comandamenti per il Mizzot perciò tutti devono tutti devono conoscere Hashem tutti devono arrivare a amare un unico Dio e questo cosa porterà la venuta di Mashiach quando tutto il mondo accetta un unico Dio un unico imperatore al mondo allora questo che il mondo sarà pronto per Mashiach tutti noi ognuno di noi nel suo piccolo nel suo ambito dove lui vive eccetera eccetera è il mandato di Dio è il prescelto di Dio di attate da bere tu dovrai parlare tu dovrai fare perciò non dobbiamo guardare che magari non abbiamo una preparazione magari non siamo osservanti a 100% non è importante la nostra storia Dio ti ha messo al mondo non per sbaglio Dio ti ha messo al mondo per portare avanti la sua missione cosa? di portare la conoscenza di Dio al mondo e questo porta la redenzione finale perciò nessuno si può esimere dal da fare quello che Hashem vuole bisogna mettere da parte le nostre insicurezze il nostro sentirci non magari al 100% idonei non ha l'altezza Dio sa quello che noi siamo eppure ci dà questa missione voglio che tu partecipi con questo ok allora abbiamo detto tu dirai tutto ciò che è e Aaron dovrà tradurre vediamo il commento numero 2 tu dirai dirai una volta ciascuna delle cose che ti riferisco esattamente come le senti da me perciò Dio parlava a Mosè Mosè lettera per lettera ripeteva il comandamento Mosè era infatti lo shaliyah l'emissario di Hashem e come tale non poteva modificare per nulla le parole del suo mandante doveva esattamente ripetere parola per parola Aaron poi le tradurrà e le spiegherà il faraone in modo che le comprenda bene perché appunto ovviamente in quel modo il faraone non avrebbe capito niente detto come Mosè le diceva lui non capiva e questo è un è quello che il rebbe dice su il Rashi praticamente questa interpretazione la dà il rebbe presa da Rashi ok passo numero 3 quanto a me dice Dio indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò attenzione qua dice i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto vedete qua ogni parola come vedremo nella spiegazione ogni parola della Torah è azzeccata è precisa e quando la Torah usa due parole per dire quello che può sembrare a priori la stessa cosa vediamo che in realtà no come qua dice moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi che differenza fa tra segni e prodigi lo vedremo in questa puntata andiamo al commento numero 3 dice indurirò il cuore del faraone secondo alcuni commentatori l'espressione non indica che Hashem avrebbe privato il faraone del libro arbitrio ecco tante volte abbiamo fatto questa domanda come è possibile che il faraone se il suo cuore era indurito e allora dove sta la giustizia come fa Dio a punirlo di un qualcosa che lui in realtà non era padrone di se stesso allora qua dice indurire il cuore è una cosa togliere la libertà di scelta è tutta un'altra cosa allora qua dice l'espressione non indica che Hashem avrebbe privato il faraone del suo libro arbitrio altrimenti quale sarebbe stata la sua colpa il verbo indurirò invece si riferirebbe alla forza di tollerare le pene delle piaghe non lasciandosi piegare da esse questo è il punto dice indurire il suo cuore vuol dire diventerà forte che le piaghe che le mando non lo toccheranno per quanto siano distruttive lui riuscirà a sopportare a tollerarle si tenga tuttavia conto che Ivenesra rifiuta questa opinione un saggio dice così un altro saggio dice no non è così perciò indurire il suo cuore prima di tutto significa non è togliere il libro arbitrio ma semplicemente indurire il cuore e qua dice che lui sta rafforzando la sua capacità di tollerare le disgrazie perché più le tollerava e più a Dio le poteva dare allora il prossimo sempre avanti nel commento è qua quello che dicevo i segni e i prodigi che differenza fa tra uno e l'altro e dice così il segno qua dice che io potrò moltiplicare i miei segni e i miei prodigi in Egito il segno serve a rendere attendibili le parole del profeta che afferma di essere stato inviato da Dio semplice cos'è un segno è un segnale che io non vengo a parlare in nome mio ma io sono un profeta di Dio vengo a parlare in nome suo perciò il segno che io ti faccio vedere qualsiasi esso sia viene a dimostrare che io vengo in nome di Dio per questo c'è scritto che Moshe operò dei segni soltanto davanti agli ebrei per quanto fedeli a Hashem dovevano essere convinti che fosse stato lui a mandarlo perciò i segni cosa sono? che loro dovevano ricevere una sicurezza sì noi crediamo in Dio nessuno dice di no ma chi dice che questo Moshe non sia un impostore magari è il primo che si è camuffato da profeta e viene a dire Dio mi ha mandato a salvarvi cioè noi non mettiamo in dubbio la parola di Dio non mettiamo in dubbio la parola di Moshe chi ci dice che veramente tu sia mandato da Dio allora qua dice un segno è in questo caso era per gli ebrei che loro avevano già fede in Dio ma semplicemente aiutava Mosè a dimostrare che lui era in effetti mandato da Dio quello è il segno il prodigio invece prova l'esistenza del mandante un prodigio è ancora più di un segno perciò Mosheo però prodigi di fronte al faraone che aveva messo in dubbio l'esistenza di Hashem segno è una cosa basilare Mosè doveva fare un segno dimostrare dei segni per far vedere che in realtà lui è mandato da Dio gli ebrei non avevano bisogno di prodigi perché loro credevano in Dio chi aveva bisogno di un vero e proprio prodigio gli egiziani il faraone perché perché loro in realtà non credevano in Dio perciò i prodigi erano per loro perché loro capissero la grandezza di Hashem ragion per cui anche tutte le piaghe che sono arrivate sull'Egitto gli ebrei erano indenni anche se erano dentro insieme a loro l'acqua si è trasformata in sangue soltanto per loro la stessa acqua che era sangue se la prendeva un ebreo non era sangue perché è questo perché gli ebrei non avevano bisogno tutti questi prodigi appunto erano per gli egiziani affinché loro capissero che stavano avendo a che fare con Dio che è il padrone del mondo quattro ma il faraone dice Dio non vi darà ascolto metterò la mia mano in Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere il mio popolo i figli di Israele con grandiosi atti di giustizia vediamo qua la spiegazione cosa vuol dire le mie schiere in questo contesto il termine schiere si riferisce al popolo ebraico in questo contesto ma in altri casi si può trattare degli astri o delle schiere di angeli in generale il termine tzavà schiera o esercito come anche oggi si chiama esercito da tzavà indica un insieme organizzato e non un grande numero di persone o di altri elementi si tratta appunto tzavà vuol dire un insieme organizzato non non è che indica una grande quantità di persone o di angeli o di qualcosa ma è un insieme organizzato l'insieme degli angeli o degli astri formano un esercito in quanto sono tutti predisposti in un ordine ben determinato sono disciplinati organizzati per uno scopo preciso e quindi guidati da un'autorità superiore questo è quello che è tzavà questa c'è anche una tzavà di 10 persone di 20 persone in un esercito non è la quantità che lo rende più esercito o schiera che vogliamo usare o meno ma è il modo e loro come operano allora qua dice una piccola cosa si usa a dire quando si dice si sono schierati non vuol dire che si sono messe delle persone alla rincusa ma vuol dire che si sono messi in ordine ben preciso si usa proprio anche nel linguaggio normale ma anche l'esercito si schiera l'esercito è schierato si usa a dire giusto giusto in quanto sono tutti predisposti in un ordine ben determinato sono disciplinati organizzati per uno scopo preciso e quindi guidati da un'autorità superiore gli ebrei vengono qui definiti un esercito poiché avrebbero tutti lasciato l'Egitto con lo scopo comune di servire Hashem e di ricevere la Torah perché lo chiama esercito non più che vanno a fare la guerra perché sono ordinati disciplinati tutti uniti in un stesso modo a fare che cosa che una volta lasciato l'Egitto avevano tutti lo scopo di servire Dio così come un esercito è sotto il caporale generale che si ha anche gli ebrei erano tutti uniti e volevano appunto servire Hashem e ricevere la Torah per questo che vengono chiamati Tzivot Hashem l'esercito di Dio in questo caso non sottolinea il concetto della guerra il popolo ebraico non è mai stato un popolo di guerra la Tzavah non era mai una cosa di guerra di difesa semmai ma in questo caso che sono appena usciti Tzavah vuol dire appunto questo concetto qua Ibenesra spiega che l'impiego di questo termine esercito è mirato a paragonare il popolo ebraico agli angeli tutti ugualmente servitori di Dio perché qua prima parlava che anche gli angeli hanno una schiera anche l'esercito hanno loro e perdono gli angeli hanno loro esercito per modo di dire allora qua sta paragonando gli ebrei agli angeli che ugualmente servono così come gli angeli sono stati creati per servire Dio anche il popolo ebraico 5 quando stenderò il mio braccio sull'Egitto gli egizi riconosceranno che io sono Hashem e farò uscire i figli di Israele da loro 5 gli egizi riconosceranno le piaghe e i prodigi proveranno al mondo intero che il creato è nelle mani di Hashem come l'argilla in mano di quelle del artefice ma qualcuno mi dice che la parola artefice qua intende artefice di colui che fa o ha un'altra parola che è collegata proprio meramente con l'argilla no no l'artefice è quello che si intende in questo caso colui che lavora l'argilla penso che la taglia che la lavora è la prima volta che sento che artefice voglia voglia dire questo l'artefice è colui no l'artefice è come è colui che crea qualcosa non è quindi io sono un artefice sì certo un attimo un artigiano no un artigiano ah un artigiano al di là dell'argilla al di là dell'argilla o del ok l'artigiano è la professione in sé è il nome del lavoro io faccio l'artigiano che poi l'artigiano è tutto è quello che ripara la bicicletta è quello che crea qualcosa perché comunque dal punto di vista anche del contratto lavorativo è sotto la categoria artigiano artefice è colui è qualcuno che comunque crea qualcosa ah ok l'artificio è di una certa cosa sì no io ero rimasto a quello però pensavo che l'etimologia è la stessa l'etimologia è la stessa mi diceva Miriam qui cioè arte fare artigia ma non ok ok sapete cosa è allora io la parola artefice la conosco ok ma messa così pensavo che fosse anche chi lavora l'argilla si chiama artefice invece no chi lavora l'argilla è un artefice ma artefice si può applicare a tante esatto esatto ok ok basta è la parola artefice che conoscevo anche un pittore è un artefice uno scultore è un artefice chi lavora l'argilla è un scultore è un ceramista eh sì vabbè però è sempre artefice della sua opera no è l'artefice è colui che la crea beh allora per sentire Chaya parliamo più spesso di argilla e di consulare i corti d'artificio l'artificiere che prende le bombe tutto è più un'azione artefice colui che fa sì sì mi ha confuso l'abbinamento a parola ok perciò riprendiamo gli egizi riconosceranno le piaghe i prodigi proveranno al mondo proveranno il mondo intero che il creato cioè il mondo è nelle mani di Hashem come l'argilla in mano a a Chaya egli può quindi plasmarlo come desidera cioè se io ho l'argilla il pongo quello che sia e io lo sto plasmando a mio piacimento così Dio dice questo mondo è mio e io lo plasmo lo giro come voglio infatti perché proprio la scelta niente casuale diciamo no ogni cosa che Dio fa ha un senso perché la scelta delle dieci piaghe perché tra tutti i prodigi che Dio poteva fare perché scegliere questa natura di prodigi e non qualcos'altro perché tutte queste dieci piaghe se andiamo a fare la mente locale sangue rani sono niente meno che prendere la natura del mondo e piegarla e cambiarla la natura che è l'acqua è acqua di colpo l'acqua si trasforma in sangue l'attenzione trasforma non mischiato o sporcato di sangue non c'era più acqua era trasformato in sangue le rane che riempiono tutto l'Egitto i pidocchi tutte quelle cose lì erano il cambiamento drastico della natura perché perché loro dicevano siamo noi Dio la natura è Dio perciò Dio dice ah la natura è Dio benissimo vi dimostro chi è che anche la natura ha un Dio e sono io il padrone della natura e non che la natura va di perso perciò Dio ha scelto proprio questo per dimostrare che è Lui l'artefice appunto del mondo ed è Lui che decide l'andamento del mondo e Lui a suo piacimento può anche cambiare questo andamento naturale del mondo sempre di seguito e capiranno che io sono Hashem grazie a questi comportamenti finora affermavano gli egizi di non conoscermi ora sapranno che io sono il signore e il padrone perché se avevo detto anche di queste volte cosa si vuole a liberare gli ebrei dall'Egitto non era che Mosè era da solo era Dio che doveva liberare gli ebrei perciò Dio poteva in un attimo poteva uccidere il Saraon e loro riuscivano poteva una miriade di modi di come Dio poteva farlo ma a questo punto della storia non era più soltanto una missione salvare gli ebrei a questo punto della storia Dio doveva far capire al popolo intero agli egiziani il loro sbaglio che c'è un padrone in questo mondo e non è il Faraone in questo mondo e non è il Milo perciò il prolungarsi con le piaghe era uno per punirli per tutto quello che hanno fatto durante la schiavitù centinaia di anni agli ebrei e in più anche di rompere questa ideologia sbagliata che Dio non esiste che la natura è Dio e così via mi sono perso 115 Moshe aveva 80 anni 7 siamo arrivati al 6 Moshe e Aaron fecero come aveva comandato loro Hashem così fecero ripeto due volte così fecero e fecero 6 vediamo non c'è nessuna spiegazione 7 Moshe aveva 80 anni e Aaron 83 ricordiamoci Moshe era il piccolo della famiglia Miriam è ancora ancora più grande anche di Aaron allora Moshe aveva 80 anni Aaron aveva 83 quando parlarono al faraone vediamo 7 Moshe aveva 80 anni Rashi spiega che le età precisate nella Torah quali appunto quella di Moshe dimostrano che il popolo ebraico non era rimasto in Egitto per 400 anni quando Dio ha detto ad Abramo i tuoi figli andranno in diaspora saranno schiavi per 400 anni gli scrive 400 anni qua questa nota viene a contarci a spiegarci che dimostrano che il popolo ebraico non era rimasto in Egitto per 400 anni come era stato predetto ad Abramo Kehat nato a Kenan e recatosi in Egitto insieme a Iacob visse 133 anni suo figlio Amram papà di Mosè visse 137 anni anche non tenendo conto degli anni in cui essi vissero contemporaneamente il totale delle loro vite più gli 80 anni di Mosè equivale a appena 350 facendo anche questo calcolo si leva soltanto a 350 ciò confermerebbe l'opinione di Seder Olam per cui i 400 anni d'esilio iniziarono con la nascita di Ishaq figlio di Abramo perciò non da quando le tribù sono arrivate Giacobbe e i figli sono arrivati in Egitto no molto prima perché già loro erano in Egitto perciò i 400 anni di esilio iniziarono con la nascita di Ishaq che a differenza del padre era considerato dai cananei come uno straniero perciò lì già era cominciato il galut la diaspora gli anni della sua vita sono quindi conteggiati come parte dell'esilio perciò gli ebrei non sono rimasti 400 anni in schiavitù sono rimasti alla fine 210 anni di questi 210 anni 80 80 85 non ricordo scusatemi erano di schiavitù dura dura comunque era era una cosa grave 83 anni e scomparve a Harone all'età di 123 vediamo adesso andiamo giù saltiamo un attimo il nove per un attimo andiamo a leggere le scintille di Hasidur nel box giù grigio che si riferisce al passo precedente che abbiamo spiegato provate le vostre parole con un segno quando Dio manda segni e prodigi abbiamo detto che Mosè fa segni e prodigi ricordate abbiamo detto il segno era per gli ebrei il prodigio era per gli egiziani che dovevano proprio riconoscere Hashem su questo c'è una storia molto interessante simpatica dice così Rabbi Isaac di Comarna era noto era noto in Galizia per i suoi miracoli persona che sapeva fare i miracoli un giorno giunse nel quartiere del Rebbe un ebreo illuminista di Cernovich questi vagò per una settimana senza rivelare senza rivelare la propria identità facendo indagini su di lui su questo personaggio che faceva i miracoli e ascoltando storie che lo riguardavano in seguito scrisse sul giornale ebraico illuminista che si chiamava Hammagid cosa scrisse che tutti i miracoli attribuiti al Rebbe non erano altro che ipnosi e illusioni e che nel corso della sua permanenza presso la corte rabbinica non aveva assistito neppure a uno dei famosi prodigi che gli venivano attribuiti quando Rabbi Isaac il diretto interessato lesse l'articolo pubblicato sul giornale commentò e disse così la Torah ci racconta negli ebri diciamo quello che siamo leggendo operò i segni alla presenza del popolo e quindi il popolo ebbe fede riguardo ebbe fede quando Mosè ha fatto i segni alla fine il popolo l'hanno creduto hanno avuto fede riguardo i faraoni invece c'è scritto il cuore del faraone si rinforzò e non gli ascoltò nonostante tutti i prodigi che ha ricevuto le piaghe tutto quanto lui non ha fatto nessun effetto su di lui sul faraone ha continuato ad andare mentre mentre gli ebrei ebbero fede nelle parole e nelle azioni di Mosè il faraone invece le disdegnò ok ne consegue che tutto dipende dagli occhi con cui si osservano i prodigi con occhi di Israele Israele o con occhi di faraone lo stesso prodigio agli ebrei è servito per credere ma il faraone niente tutta questa storia per dire che questo tizio qua questo illuminista che veniva a buttare dubbi su questo Rabbi Isaac e gli dice anche quando il Dio ha fatto un miracolo tramite Mosè gli ebrei hanno creduto il faraone no ma il miracolo era quello perché questi questi no tutto dipende da come sei recettivo da come ti poni a a credere o meno accettare o meno perciò tutto dipende da te dai tuoi occhi da come vedere un miracolo una volta una persona può ricevere un grande miracolo ma non vedere che è veramente un grande miracolo e invece lo conosci wow che miracolo perciò dipende non dal miracolo in sé ma come tu accetti e prendi su di te appunto questo miracolo questo segno che Dio ti sta dando tutto dipende da noi come c'è scritto parole che escono nel cuore entrano nel cuore allora una volta uno dice vabbè io ho detto parlo al cuore ma non sono entrata nel cuore è colpa sua lui che non mi ha ascoltato io ho parlato dal cuore dice no si vede forse che le tue parole non uscivano veramente dal cuore o totalmente dal cuore perché se fosse stato puramente dal cuore sarebbero entrato nell'orecchia di chi nel cuore di chi ti ascoltava perciò molte volte anche e questo appunto appunto di come sì anche chi ascolta deve essere recettivo ma anche chi dice deve puramente usare il cuore e non secondo i scopi secondo cose varie ok torniamo adesso al 9 intanto qualcuno vuole dire qualcosa una domanda non so se mi è sfuggita ma quando Hashem parlava a Moshe davanti a Aron e a Parò la voce di Hashem la sentiva solo Moshe o anche gli altri due forse all'inizio molto interessante quello che chiedi molto interessante va beh non è necessario adesso diciamo dare una risposta però mi è venuta in mente questa cosa qua mi obblighi lunedì sera a venire alla nostra riunione e rispondervi ma in generale bisogna vedere se c'è un'altra domanda sulla tua domanda se quando Dio diceva le diceva in quel momento o le aveva gettate a priori eh bravo esatto anche questa è una domanda perché se se l'avessero sentita anche Aron è inutile che poi si ripetesse ad Aron se Aron aveva già sentito la voce di 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 interessante aspetta che trovo una penna e me lo segno ok la voce di magia che la sentiremo noi sì 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 la voce di magia che la sentiremo noi sì 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 a che volevo dire ottima domanda sinceramente non ho mai pensato sinceramente eh vado a controllare grazie ok nove quando il faraone vi parlerà dicendo provate le vostre parole con un segno dirai ad Aron prendi il tuo bastone gettalo dinanzi al farone e adesso si tramuterai il serpente questo è il primo segno il farone vi chiederà fatemi vedere chi siete eccetera eccetera datemi un segno e tu dirai a Aron di prendere il suo il tuo bastone e gettarlo davanti al farone e diventerà un serpente famosa storia che conosciamo nove provate le vostre parole con un segno date un segno che provi il potere di colui di colui che vi manda fatemi vedere che è questo Dio però avrebbe richiesto una dimostrazione della forza divina per accettarsi che Ashen fosse degno di essere considerato seriamente volevano una prova il commento va avanti a pagina 116 Rabbi Elimeler di Lijensk si afferma sul termine la Mosea Aron allora questo Rabbi Elimelech su questa parola Lachem le vostre letteralmente dice che si intende letteralmente per voi le vostre si intende per voi Lachem spiegando che ci sono veri prodigi e giochi di prestigio o stregonerie quest'ultima categoria ha la particolarità di prestigio e stregoneria ha la particolarità di impressionare coloro che vi assistono ma non coloro che la praticano chi fa il mago chi fa impressione soltanto alla gente ma chi lo fa non è impressionato perché è una magia è una cosa che lui o è finta o comunque anche all'epoca dei maghi loro non non è impressionato è una cosa che facevano ogni giorno in Egitto anche i bambini erano capaci di fare stregonerie non era una grande cosa cioè chi la fa è una cosa di routine non 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 impressiona più di tanto il prodigio divino invece impressiona colui che lo esegue quanto colui che vi assiste quello ha un effetto anche sulla persona che lo fa a contrario di una stregoneria il faraone quindi avrebbe chiesto a Moshe a Aaron di fare qualcosa che anche per loro stessi sarebbe stato un vero miracolo dirai ad Aaron dice Dio di Aaron di prendere il tuo bastone però avrebbe parlato a entrambi al plurale ma essi avrebbero agito separatamente ognuno aveva appunto la sua missione il suo compito Moshe avrebbe detto ad Aaron cosa fare e questi avrebbe eseguito essi avrebbero inoltre atteso le parole delle faraone e poi Aaron avrebbe aspettato quelle di Moshe per intervenire Aaron veramente era proprio in mezzo Moshe diceva Aaron trasmetteva e poi Aaron e il farone rispondeva perciò era tutto una cosa fatta a tre prendi il tuo bastone secondo gran parte delle opinioni non si tratta del bastone con cui Moshe operò i segni il famoso bastone che poi ha aperto il mare eccetera in questo caso qui secondo la maggior parte non è quel bastone lì bensì si tratta del bastone personale di chi di Aaron come usavano allora le persone illustre il bastone per camminare no? non perché zoppicava quant'altro il simbolo di essere illustre essendo egli diventato portavoce di Moshe anche al suo bastone al suo semplice bastone furono attribuiti poteri miracolosi perché ovviamente non è il bastone in sé che fa il miracolo ovviamente ma è Dio che dà la possibilità al bastone di essere un tramite per portare i prodigi ovviamente no? è possibile che si tratti di quello che questo bastone che dopo la rivolta di Korach fece germogliare fiori e produsse mandole quando appunto vengono a Korach venire a avere da ridire allora Mosè dice ok ognuno di voi porti il suo bastone e vediamo quale fiorirà per il primo e allora alla fine il bastone di Aaron ha germogliato in segno che Dio gli ha mandati e dice forse si tratta addirittura dello stesso bastone ok andiamo avanti sempre nel commento prendi il tuo bastone dice gettalo dinanzi al faraone e si tramuterà in serpente cosa vuol dire se si tramuterà in serpente questa traduzione si basa sul commento di Rashi che è un serpente nel testo ebraico il termine impegnato per dire serpente è Tannin che fosse anche in arabo Lina anche in arabo cos'è? Tannin è coccodrillo eh sì adesso vediamo anche di questo ma in arabo serpente come si dice? no ok allora qua dice non lo so ok 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 si dice hanash hanash ah hanash sì hanash ok ok niente allora qua quando si parla di serpente la Torah usa la parola Tannin giustamente Lina dice Tannin vuol dire cocodrillo è proprio questo il punto Tannin che Rashi lo parafrasa con serpente i Tannin citati in relazione alla terraferma appartengono alla specie dei serpenti mentre quelli menzionati in relazione all'acqua sono grandi rettili anch'essi simili a serpenti secondo Ibenesra e Cleia Kar si tratta invece di cocodrillo formatosi dal bastone di Aharon e non da quello di Moshe questo serpente che arriviamo diceva questo serpente qua che da bastone si è trasformato in serpente appunto anche se in realtà la parola vuol dire cocodrillo ma Rashi parafrasando viene fuori a spiegarci che era un serpente e che era dal bastone di Aharon e non da quello di Moshe prego diceva mio marito mi ha detto che in arabo marocchino serpente si dice hent hent gliel'ho appena chiesto ok ok no non so perché ma mi ricordavo che Tannini anche in arabo vuole essere serpente ma a quanto pare no ok come l'ho detto però è arabo marocchino sono tutti uguali infatti in tripolino ha detto Hinesh per un'altra cosa sì sì il tripolino è giusto Hinesh Hinesh ok Rav Hirsch continuiamo nella nota nel commento Rav Hirsch concorda con la versione di quest'ultimi aggiungendo che parò stesso in Heskel viene nella profezia nel libro di Ezechiele viene descritto il faraone come una grande creatura che giace in mezzo ai suoi fiumi allora spieghiamo il faraone nel libro di Ezechiele ricordiamoci il faraone era rappresentato da serpente sulla sua come si chiama sul suo capo copricapo aveva un serpente lui era il suo simbolo che rappresentava lui allora quando viene descritto nel libro di Ezechiele il faraone viene chiamato come una grande creatura che giace in mezzo ai suoi fiumi il faraone stiamo parlando ossia un mostro che attribuisce la propria esistenza agli dei del fiume dice il segno descritto in questo versetto contiene il seguente avvertimento al faraone ah no pardon già qui vediamo che se il simbolo del faraone era serpente e qua usa la parola tannin per dire che il faraone era un serpente nei fiumi allora già anche da qui vediamo che la parola che Rashi dice serpente piuttosto che cocodrillo abbiamo un'altra fonte anche da Ezechiele che lo chiama serpente con la parola tannin ok allora dice qua tu e i tuoi dei in mano mia dice Dio non valete più di un bastone tornando al fatto che il bastone diventa serpente il suo messaggio è che tu e i tuoi dei in mano mia non siete non valete più di un bastone facendo perché serpente perché il bastone diventa serpente perciò il bastone serpente perciò tu non vali più di un bastone più che se è un serpente cos'è un bastone non è niente non ha nessun valore perché se sono in mano mia non ha nessun valore Balatourin spiega che Aharon avrebbe dovuto esprimere questo comando al serpente che lo indicherebbe lo indicherebbe in forma imperativo del verbo Yehi che sia in modo che il faraone fosse testimone della sottomissione della natura alla volontà di Hashem e il bastone sarà serpente Yehi perciò qua Aharon sta parlando non all'aria sta parlando al bastone dice bastone diventa serpente vuol dire di nuovo che che fosse testimone il faraone della sottomissione della natura alla volontà di Dio perché Aharon sta ordinando al bastone di diventare serpente che è una cosa fuori dalla natura ed era questo di nuovo uno dei segni che Dio voleva che il faraone ricevesse per dire la natura di natura un serpente non può diventare bastone e viceversa ma io lo faccio anzi lo faccio tanto parlando diventa serpente e lui lo fa cosa totalmente non naturale a parte il fatto che a me il verbo mi fa venire in mente un'altra cosa no Yehi è un'altra cosa ok va bene va bene io direi finiamoci qua se non gli mettiamo troppa carne ok parola agli ascoltatori interessante poi che anche araone riesce a col suo bastone farlo diventare sì però è molto interessante giusto cos'è la differenza la differenza è che era Moshe e araone lo facevano con la forza di Dio eccetera e invece come dicevo prima che anche i bambini piccoli facevano le stragonerie in Egitto loro usavano quello che si chiama la sitra akhra quello che è contrario una forza negativa contraria alla forza divina che anche anche la parte del male ha ha forza loro attingevano le loro forze per fare i vari miracoli e prodigi che facevano non da Dio ovviamente ma dalla forza contraria a Dio dalla forza del male ragione Hashem sapeva che anche Parò avrebbe potuto fare questa trasformazione con le forze del male esatto ma poi cosa succede la storia finisce lì lo vedremo a settembre i bastoni mangiano i bastoni esatto ecco attenzione non che i serpenti mangiano i serpenti che è già una cosa normale il miracolo è che i bastoni sono tornati i serpenti sono tornati a essere i bastoni e il bastone del faraone di Dio ha inghiottito gli altri bastoni per dire che di nuovo tu pensi che va bene bravo hai fatto un prodigio anche tu ma pensi che mi blocchi dice Dio lo faccio diventare bastone e i bastoni mangiano bastoni non puoi competere con me è bellissimo è bellissimo fantastico fantastico però c'è da fare un ragionamento su questa cosa perché la sitrara fa parte sempre di Hashem e quindi Hashem la conosce quindi era Hashem che gli lasciava fare i giochetti certo e dopo però alla fine tracchete cioè gli diceva guarda siccome la sitrara è pure mia io ti comando i tuoi dei deuncoli che ci sono che non sono niente e quindi mi mangio i tuoi bastoni perché l'unicità di Hashem è in questo cioè Hashem permette allo Yezi come dice Zalman di manifestarsi non di esistere perché se fosse una cosa che esistesse al di fuori di Hashem Hashem non si sarebbe più Echad se esistesse come le forze del male perché si chiama Sitra Achra un'altra parte la parte posteriore perché è tutto Dio ma la cosa assurda se possiamo dire assurda la cosa strana è che queste forze del male qua da dove prendono forza? Dalla divinità è Dio che permette Dio che ha voluto che loro esistessero perciò in qualche modo deve dargli modo di essere perciò loro ricevono il male riceve forza di essere dalla divinità ma da dove? Achra dalla parte posteriore Tania dice quando tu vuoi dare qualcosa a una persona e lo vuoi dare con amore con una cosa buona io lo dai frontalmente ma quando tu vuoi dare qualcosa a qualcuno in modo dispregiativo io lo passi di dietro te lo do te lo do di schiena però te lo do questo è sitra Achra Achra vuol dire dietro vuol dire Dio che ha voluto che ci sia il male e in qualche modo lo deve mantenere che è viva gli dà forza ma da dietro perché la domanda è perché Dio ha voluto che ci sia il male l'abbiamo già spiegato un miliardo di volte che senza il male non c'è valore del bene senza il male non c'è libertà di scelta e libertà di scelta dà valore alla persona che sceglie tra il bene e il male allora quando tu scegli di fare il bene hai acquisito un merito se invece sei obbligato e non hai scelta e mangi soltanto cashier perché non c'è altro allora vedi che non hai fatto nessuna scelta nessuna miswa allora Dio per dare valore a noi quando noi scegliamo di fare qualcosa di buono per dare un valore dice va bene faccio anche il male così tu veramente puoi scegliere tra il male e il bene e scegli il bene allora ha sì un merito altrimenti che merito avresti questa è una delle motivazioni che c'è il male una cosa interessante ma veramente interessante è il fatto che i bastoni che il serpente ha mangiato i bastoni per spiegare al parò e dirgli guardate che la tua è perché io mi contraggo e gli lascio lo spazio dietro ma se io mi espando di nuovo te la mangio di nuovo sì 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 io ti tengo in vita ma non pensare che tu puoi non vorrei aprire una polemica ma mi sembra quando poi dicevo che è una cosa assurda che il male prende realtà attinge forza da Dio mi viene in mente ripeto una storia che è una polemica tutta questa storia adesso questa storia tra Israele e i vari cugini no? sì da quello che io so l'elettricità che loro hanno arriva da Israele se non sbaglio non vorrei dire così come l'acqua così come altre migliaia di cose l'acqua deminarializzata perciò per non parlare degli ospedali quando loro vengono dicendo cose vitali elettricità acqua eccetera cioè se soltanto Israele chiudesse le fonti di queste cose qua loro sparirebbero in pochi diciamo la grandezza di Israele in questa guerra che veramente potrebbero in 448 far di fuori ma noi non siamo la nostra cultura non è questa e noi non lo facciamo sbagliato giusto che sia politicamente parlando non entriamo in politica adesso ma per dire che loro dipendono veramente in tutto per tutto dallo Stato di Israele eppure continuano a esserci grazie Israele eppure ogni giorno mandano e fanno cose interessante un accoppiamento bello dottor Messina ci dica qualcosa ma mi sono venuti i 4 brevi flash che volevo sentire il primo è quello del ruolo di Aron che non è soltanto un comprimario non è soltanto la spalla di Moshe Rabbein ma dice Maron ne parlerò a Parò e spiegherà quindi fa Danavi come dicevamo già l'altra volta non fa soltanto il targum ma ci mette no no certo spiega perché il discorso che faceva Moshe Rabbein probabilmente era così alto che nessuno non avrebbe capito senza non bastava solo tradurre ma anche spiegare ecco e spiegare questo è il primo flash il secondo flash quando parla etse votai farò uscire i miei eserciti le mie schiere ve yekulu ashamayin le cose voaut cioè è l'idea di un qualcosa di ordinato io mi sono segnato l'idea di unione ordinata come appunto l'esercito che funziona uno insieme all'altro adsevet vuol dire forbice la forbice se non fosse unita non funzionerebbe perché sarebbero due lame separate che non tagliano niente insomma bello ecco e lo stesso l'esercito adseva ma chiaramente più ordinato delle cose militari non ci sono quindi da proprio l'idea di una necessità di una creazione ordinata come dicevamo qualche tempo fa quando eravamo mangiato a Milano insieme agli amici dal caos all'ordine no? è vero Davide c'è questa idea di dover creare un ordine perché il mondo possa dare male l'altra cosa è quando Faraone dice e datemi un moffette perché non dice un otto cioè sono andato a vedere il suo vocabolario ovviamente moffette dà l'idea secondo l'autore del vocabolario di una dimostrazione giuridica di una dimostrazione di un qualcosa come una prova in tribunale no? cioè quindi materialistico voglio vedere l'ot è qualcosa di spirituale quindi parlano due lingue diverse culturalmente però dice voglio dimostrazione giuridica che voi siete mandati da Kadosh Barakou invece gli ebrei parlano di otto cioè si credono perché è già un miracolo quello c'è proprio questa differenza culturale tra l'un e l'altro e infine sempre per brevità perché se no andiamo avanti fino a domani mattina e mi veniva in mente quando si dicono i passi specialmente di Rabbenu Tam Barakou portava sulla testa il serpente l'ureo si chiama in termine geroglifico insomma no? e invece quando si mettono i tefillin dice metterai i tefillin e saranno un zikaron beneineca che io ti ho fatto uscire della terra quindi ricordati di cosa avevi in testa Parò quando ti metti in testa i tefillin tra le altre cose ovviamente oltre all'ordine della mitzvah di Sperse cioè la differenza tra noi e il materialismo di Parò che era il serpente no? dice no noi abbiamo i tefillin che è una cosa di Kedusha Massimo insomma bellissimo è piaciuta molto questa 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 differenza mettete i tefillin è ancora insomma mettete i tefillin è ancora ricordati dell'Egitto come dice il passo della beontà perciò mettete i tefillin è ancora un segno per per ricordare proprio come abbiamo visto per il testa per commettere i serpenti dell'Egitto sì sì tra le altre cose tra le altre cose certo perché i serpenti dell'Egitto in modo metaforico esiste ancora diciamo il male esiste ancora qualcuno ha detto non mi ricordo più chi noi siamo usciti dall'Egitto ma non sempre l'Egitto è uscito da noi esatto perciò noi con i nostri tefillin riusciamo a continuare a cacciare fantastico fantastico ecco bellissimo quello che ha detto Roberto il passaggio dal caos all'ordine per passare dal caos all'ordine serve energia mentre l'inverso è l'aumento di entropia che avviene in modo naturale senza apportare energia quindi è un bellissimo esempio questo qua energia che è divina ma io lo dico sempre anche a voi ma anche lo racconto a chi non vede le lezioni che io parlo per 50 minuti e poi quello che gli ultimi 10 minuti che voi dite io imparo molto di più da quello che io dico da voi che da me stesso ma veramente è l'imparare è reciproco e recibe sempre reciproco sono d'accordo ma io questi ultimi 10 punti per me sono fantastici perché la lezione la fate voi e io imparo qualcosa che ognuno mette il suo ed è fantastico è fantastico grazie mille grazie mille a voi qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa chiedere grazie mille a voi